Amici italiani, benvenuti a questa mia trasmissione televisiva. Buonasera a tutti e benvenuti a questo nuovo programma che si chiama L'Italia dei giorni nostri. Questo programma riguarda soprattutto ai nostri giovani italiani che non hanno un lavoro e soprattutto ai personaggi politici che rubano a mani delle tasche nostre. Io voglio dire una parola a Salvini e sicuramente mi deve sentire Matteo Salvini. Matteo Salvini dice che lui non è un ladro, dice che lo Stato è il ladro. E invece di dire lo Stato è il ladro e lei non è un ladro che prende 20.000 euro al mese? Si vergogni perché anche lei è un ladro, anche lei ruba. Come tanti politici italiani come Berlusconi ha rubato e lui è anche stato arrestato, è stato anche contannato per sette anni perché sta ancora su questo caso rubo, ma adesso perché ha pagato i giudici, ha fatto tutto quello che ha fatto. Ma Berlusconi è una persona che veramente dice vuole il bene del paese. Diceva che anche il paese in cui vive è il mio paese, non è di tutti. Il paese in cui viviamo, che è l'Italia, è il paese di tutti noi, non è il paese suo. Non può dire il paese è mio e il paese non è di tutti. Berlusconi ti sbagli. E anche che è anche un ladro, un truffatore e un pregiudicato. Poi, come tutti della Forza Italia, Lega Nord, Bebbe Grillo che è un buffone, che è un altro personaggio politico, era meglio che faceva il comico, era più divertente. Invece fare il politico, rovina soltanto le cose, fare il politico è molto difficile, come diceva Giovanni Totti. Diceva Giovanni Totti che il lavoro è molto difficile fare il politico che il giornalista. Però dico Giovanni Totti che lei è un politico, Giovanni Totti, si vergogna pure lei. Lei che è collaboratore di Forza Italia, è anche sindaco di una città, non so di quale città parla. Io voglio dire che anche Totti non era meglio che faceva i giornalisti, invece di stare con questo coglione che sta in mezzo al mondo. Questo Berlusconi che è un pregiudicato, un truffatore e un usurpatore, che anche ha violentato questa certa rubi, ma si vergogna pure lei. Tutti i partiti politici, tutti ce ne sono, tanti che sono tutti ladri dello Stato. Ma non parliamo che noi siamo noi che diamo quello che noi vogliamo dare. Noi ai nostri politici diamo a mangiare noi, non loro, che loro non ci aiutano mai a noi. Siamo noi sempre ad aiutare i politici, a portarli avanti, a portare avanti la loro carriera, se no la perdono. Perché così succede. Quando noi paghiamo le tasse, queste nuove tasse che si chiamano la Tasi, la Tari, si stanno inventando tutte queste tasse, soltanto perché loro devono prendere, perché devono sopravvivere e fare i regali ai loro propri figli. Io questo dico, signor Salvini, ma lei cosa se ne rende conto, signor Salvini della Lega? Lei è un bugiardo. Sono tre mesi che sta raccontando sul gruppo di Facebook di tutte queste buffonate che sta facendo tra la gente. Sta coinvolgendo la gente per prendersi dei voti. Seconda cosa, signor Salvini, lei è una persona che dice soltanto frottole al nostro paese. Tre, questi soldi che ha detto la salva Roma, noi l'abbiamo salvata noi. Dove l'avete salvata? Per 24 milioni di euro. E un'altra cosa, la Lega è soltanto una ladra. Lei farà la fine di Umberto Bossi. Come Umberto Bossi aveva detto di cambiare la propria padania, dice ora sicuramente la cambio anch'io la padania. Lei dice la cambio io l'Italia. E sicuramente ruberà come Umberto Bossi. E verrà anche arrestato, sicuramente. Si vergogna anche lei. Perché anche lei si deve vergognare, signor Salvini, come la devo chiamare? Coglione di merda. Questo è lei, eh. Perché si deve vergognare, signor Salvini. E non solo Salvini, Berlusconi. Renzi, non evadiamo perché Renzi è una persona che ha sbagliato di molto. Ha preso in giro a tanti italiani. Soltanto un regalo ci ha fatto. Il regalo degli 80 euro. Ma che cosa sono questi 80 euro? Risolvono i problemi del paese? No, aggravano molto. C'è questa povertà che sta aumentando giorno per giorno. E migliaia di imprese e di aziende italiane stanno chiudendo. Le più grandi e le importanti aziende italiane che stanno chiudendo per colpa di questi politici italiani che rubano tramite i soldi e le tasche dei cittadini. Ma per piacere, votate un partito onesto. Ma per piacere, invece di fare la guerra tra partiti e partiti, unidio e tra partiti, è migliorata la condizione dell'Italia che sta peggiorando. E anche Giorgia Meloni. Giorgia Meloni è un'altra truffatrice. Lei non ruba. Lei non ruba. Tutti rubano. Diciamo che i politici, tutti i politici italiani rubano. Perché sono tutti dei latri. Allora non dite il fatto che a Roma, Alemanno, Marchionne, della Fiat, è quello. Non ne parliamo. Parliamo di questi grandi politici perché questi politici che sono truffatori dello Stato e sono truffatori dello Stato. Va bene? Perché tutti questi politici sono truffatori. Come dire, si sono rubati nelle tasche nostre, si sono presi, se le sono presi, le hanno regalate alle prostitute, le hanno regalate ai ladroni. Hanno fatto uscire di carcere a tanti personaggi. Perché hanno avuto, cioè quando succede una lite, uccidono una persona. Uccidono una persona, dopo due anni esce. Perché viene sempre pagato dallo Stato. Perché, come Berlusconi dice, io non ho mai fatto niente perché io non so niente del caso Rubi. E ha detto, ho fatto così. Ha detto, signor giudice, tenga, tenga, gli do 500 mila euro, però lei mi deve far uscire subito. Io devo aiutare l'Italia, devo aiutare l'Italia. Questo ha fatto Berlusconi, questo ha fatto. Sentite le parole di Berlusconi, sentite. Signor giudice, io non ho fatto proprio niente. Io voglio prendere questi soldi, li destino a lei, signor giudice. Tenga 500 mila, un milione di euro. Tenga, voglio uscire da qui. Non è vero, non è vero, non sono stato io. Sono stato io, però. Però voglio, voglio togliere, voglio togliere tutti i 500 mila euro. Dona lei, tenga, tenga, tenga. Grazie, signor Berlusconi. Adesso la faccio uscire. Lei, dico che lei è innocente, signor Berlusconi. È innocente, è innocente. Grazie. Il signor Berlusconi è innocente. Può uscire dall'aula. Negli sette anni sono reclusi. Fiorito. E hanno tolto i sette anni di Berlusconi. Così è successo. Berlusconi, il grande buffone e anche il grande violentatore, quello che ha fatto con questo gesto così, non voglio pronunciarlo in questa dimensione televisiva. Berlusconi è un atto truffaduo. Guardate questo albero di Natale. È arrivato Natale. Tanti italiani stanno in mezzo alla strada a morire di fame. E adesso cosa si deve fare? Vedo tanti barboni, come l'anno scorso, quest'anno lo vedo molto peggio, per tanti italiani. Do dire, noi cambieremo il nostro paese, ma chi lo cambia? Chi lo cambia? Né Salvini, né Berlusconi, né Grillo, né Renzi. Letta che ha rovinato le cose. Il peggiore d'Italia, il politico più peggiore d'Italia è Monti, che noi consideriamo un fallito per l'Italia. E lui deve andarsene via, cioè farlo condannare per la pena di morte. Solo Monti, perché Monti deve essere condannato per tutti quegli italiani che si sono suicidati, che hanno perso il lavoro e non hanno potuto cambiare una famiglia. Questo deve dire Salvini. E lui Salvini è un altro ladro, perché lui prende 20.000 euro all'Unione Europea, che anche lei ruba, a me è per piacere. Deve confessare, signor Matteo Salvini, come lo devo chiamare, Federazione Europolista Europeo. Lei deve vergognarsi. Non sono io l'ultimo coglione a cacciare i soldi dalle tasche mie, andate a quei politici. Lei se ne deve rendere conto, signor politico, che lei deve fare tutto il buffone, che lei fa tutto quello che deve fare. Io non credo più a nessuno. Questo dico. Non credo più a nessuno. Velosconi è un bugiato. Renti è un altro bugiato. Gli 80 euro sta migliorando l'Italia. Di dire che sta migliorando l'Italia, questo Renzi sta dicendo soltanto alcune cose giuste. Per alcune sono sbagliate. Sono sbagliate? Quali sono sbagliate? Di dire che 80 euro? Allora, per far ripartire la crescita economica del paese si deve fare in questo modo. Abbassare il 50% fare i tagli delle tasse delle tasse quello che noi versiamo ai nostri contribuenti. Cioè, noi diamo 70-80 euro cioè 120 euro di tasse all'anno 120 euro di tasse al mese cioè, ma ci rendiamo conto? Tanti italiani intanto dicono ma quelli se le prendono sempre noi per 20 anni, per 30 anni li abbiamo dati sempre noi a mangiare. adesso noi beviamo bene beviamo un po' bene ci sono tanti italiani che muoiono di fame a Natale non andano niente stanno in mezzo alla strada e noi non sappiamo più cosa fare non so cosa dobbiamo fare gli italiani stanno in mezzo alla strada mi dispiace tantissimo non parliamo degli abusivi perché gli abusivi devono sapere una cosa non è perché dicono occupati una casa è un reato signor Salvini capisca una cosa che questi abusivi che dice i maledetti loro hanno perso lavoro non hanno una casa li hanno scacciati quei politici allora loro hanno un diritto di avere una casa come ha visto quella signora non è perché ha sbagliato è stato due anni perché non aveva una casa e lei deve vergognarsi signor Salvini deve dire che questa signora deve ottenere questa casa quella che è stata intervistata a pomeriggio 5 dice si prende i suoi affari della gente si prende e loro non hanno una casa si deve sempre aiutare a queste persone perché le persone non devono vivere in modo discreto in un modo animale devono vivere in un modo perfetto come tante famiglie italiane non vedere ogni giorno che persone muoiono di fame soltanto perché devono occupare una casa perché la occupano perché non hanno un lavoro non hanno niente e parlate anche di questo dei terremotati che ancora aspettano la casa all'Aquila io e Mila Romagna che ancora non si fanno ancora le case e pagano le tasse e vai vai queste persone che hanno perso una casa e adesso devono riparare devono pagare pure le tasse se io ero invece non pagavo le tasse per loro perché quei politici sono incapaci ignoranti e non fanno niente la mattina e la sera come diceva Sgarbi è vero sono ignoranti e sono incapaci è un consiglio che mi ha dato Sgarbi è vero è un incapace è un ignorante allora amici italiani dovete soltanto fare una cosa protestare fare una manifestazione civile contro questi polizi non dovete mettere contro i poliziotti e fare violenza camminate tranquillamente fate finta che voi dovete camminare a poco a poco 100 200 persone presentatevi in piazza andate dei politici e date quello che dovete dare delle mazzate a quei politici di dire che devono far capire che tanti italiani stanno morendo di fame devono capire quanti italiani ma devono andare tutti quei italiani io ho visto una signora e ora ve lo dico ho visto una signora a Napoli mi metto la strada la signora diceva ha detto signora ma voi perché state qui ma voi siete napoletana ha detto la signora ha detto sì io sono napoletana da quando vi vede qui da circa tre mesi ho perso una casa ho perso ho perso io ho perso la mia pensione la mia pensione prendo 120 euro al mese non so come campare prendo immaginare nell'immondizio io non so come fare io ho perso la mia casa mi hanno cacciato io non so cosa fare ho detto signora ma lei ha dei parenti non ha nessuno no non ho nessuno diceva la signora diceva io vivo in mezzo alla strada non so cosa fare se mi vuoi dare un aiuto ho detto signora adesso vi do dieci euro tengo questi dieci euro ve lo giuro li volevo spendere li volevo spendere per quelle persone li volevo spendere per me volevo spendere per una bella cosa per mia sorella ho detto ma io ce li do a questa signora che signora tenete dieci euro andate a fare una bella andate a fare una bella spesa andate a mangiare questo è il gesto che si doveva sono pari politici che non capiscono non sanno mai la povertà i ricchi vanno all'inferno tutti devono andare all'inferno perché loro non pagano questi poveri come diceva San Francesco d'Assisi donate ai poveri date ai poveri gloria ai poveri amore ai poveri vuole vivere come i poveri i poveri sono una cosa fondamentale per tutti ma ricordatevi andate a fare questa manifestazione in questi giorni dovete scatenare una guerra civile in Italia una guerra civile subito questo vi ho detto subito va bene Salvini lei è un ladro la lega è ladra Berlusconi è un ladro Renzi è un ladro Marini si deve dimettere è un ladro anche lui tutti i politici italiani sono ladri finito